La terza vittoria consecutiva a Matelica certifica l'ottimo stato di forma da parte del Campobasso, tra l'altro con una particolarità sempre gli stessi marcatori Alessandro e Gabrielloni. Sì, diciamo che in questo momento sono loro a sbloccare ogni volta il risultato e finalmente siamo riusciti anche a sbloccare questo record negativo che aveva il Campobasso che era quello che non riusciva a fare tre vittorie consecutive. Oggi ci siamo riusciti e quindi buon per noi. Il 41esimo punto della gestione Favo, c'è una disputa sul terzo posto, chi può arrivare tra Campobasso e Matelica a questo punto sta facendo la differenza reti ma c'è un lasso di tempo ancora a disposizione per stabilire con esattezza la terza e la quarta? Sì, anche se ognuno deve vedere sempre in casa propria però il Matelica comunque ora ha due trasferte difficili che sono Pesaro e Fano quindi speriamo lì di rossicchiare anche qualche punto. Al di là del valore degli avversari se ci atteniamo proprio al 70-80% della partita vediamo che è più fresco, più in forma e meriterebbe anche di più il Campobasso, la terza piazza. Lo ha detto proprio lo scontro diretto qui a Matelica. Sì, è detto bene anche se vediamo alla fine le azioni gol anche oggi ci siamo un po' mangiati diversi gol prima di sbloccare il risultato. Vi è mancato il Tris che mettesse la parola fino all'incontro? Sì, sì, anche perché oggi mancavano comunque anche diversi compagni importanti nel finale è uscito anche Manuel e quindi diciamo dispiace, è normale anche aver preso quel gol per la differenza reti però si va avanti. Obiettivamente è agevole il calendario per voi da qui alla fine? Sulla carta sì però sono tutte squadre che comunque lottano per un obiettivo. Grazie. Grazie.